Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza del palaestra Mario Daigata dopo quella giornata davvero drammatica di maltempo di luglio. Vedete che sono state già montate delle impalcature, dunque adesso inizia se vogliamo una vera e propria corsa contro il tempo per riassegnare il palaestra alla scuola basket Arezzo che adesso avrà il problema per le prime due giornate di campionato probabilmente di giocare, di tornare a giocare a San Laurentino, quella che era appunto fino a qualche mese fa la sua palestra, il suo quartiere generale ad Arezzo e poi si spera possa tornare qui molto presto anche perché si libererebbe proprio quella palestra, quella ex palestra della SBA per magari assegnarla a qualche altra società sportiva visto che presto per inagibilità sarà chiuso proprio il palazzetto di San Laurentino. Chiaramente il Comune ha tutto l'interesse appunto a velocizzare, a far sì che questi lavori si concludano nel più breve tempo possibile, si parla di 30-40 giorni però si sa come sono appunto questi lavori quindi potrebbero esserci delle lungaggini non prevedibili e quindi potrebbero anche slittare poi ad ottobre. La cosa positiva è che comunque come aveva promesso anche l'assessore allo sport Lucia Tanti e comunque tutta l'amministrazione comunale i lavori partono, sono partiti e dunque si spera che presto questa struttura, questa pala estra Mario Dagata possa tornare pienamente funzionale e soprattutto in sicurezza.